Buonasera a tutti, sono Suora Elisabetta delle Suore Operai della Santa Casa di Nazareth e siamo molto felici di essere questa sera qui in Val Sabbia nella comunità di Villa Nuova Sul Clisi al Teatro Corallo per presentare a tutti voi lo spettacolo musical Il Canto Invisibile con la compagnia teatrale Uno di Noi. Questo musical narra la vita, la storia di cinque donne realmente esistite che incontrano Dio nella loro vita, che dona loro speranza nelle loro storie di vita e tutto quello che raccoglieremo con questo musical che da un anno e passo stiamo portando così in tour sarà a beneficenza e a sostegno delle nostre missioni in Mali a sostegno del progetto Baobab per la formazione di numerose donne sfruttate per cui le nostre sorelle in Mali spendono la loro vita. Grazie. 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 Tu lo sai in che direzione andare Che la vento è tutta parte per l'amore Che la vento è tutta parte per l'amore Che c'è la vento dove viene la vita mia Dentro un viaggio mi perderò dove va adesso